La convivenza proprio, non solo una festa, ci si ferma qualche giorno, poesia, musica e poi si chiacchiera. Ma non bisogna neanche lottare. Mi hanno detto che la festa era una specie di ritrovo. In questi 15 anni di storia del circolo dell'Ippi, è la vicinanza del mare che rende sempre qualsiasi prospettiva pontevole e quindi non ti fa mai stare tranquillo. Grazie a tutti. Grazie.